È possibile ridurre le spese legate ai consumi energetici dal 2012 con l'introduzione delle valvole termostatiche, oggi ancora di più con Buildic Automation che abbiamo imparato a conoscere con il 110 e con l'EcoBonus e quindi questi sistemi permettono di avere una regolazione puntuale di ogni singolo appartamento, di ogni singolo termosifone e quindi ottimizzare sia i consumi e anche essere in prospettiva di uno spirito ecologico. Ci occupiamo anche della contabilizzazione dell'acqua calda sanitaria ma è un di cui perché la nostra azienda è specializzata nella ripartizione del riscaldamento, dell'acqua calda, acqua fredda e quindi i servizi che diamo ormai sono omnicomprensivi per la gestione di un dato, per la ripartizione di quelli che sono i consumi di stabili e degli immobili. Oggi in pratica è possibile controllare tutto tramite smartphone piuttosto che altri sistemi legati all'internet con la Buildic Automation si può gestire la temperatura di ogni ambiente, di tutti gli appartamenti e in pratica ottimizzare quelli che sono anche i consumi fino a un 40%. I servizi che offriamo sono legati alla contabilizzazione del calore, l'isolazione dell'acqua calda sanitaria piuttosto che l'acqua fredda, nella sostituzione dei ripartitori, nella sostituzione dei sistemi diretti, quindi anche quelli indiretti. Offriamo poi un servizio di letture certificate. In Bergamo e provincia possiamo ritenerci leader, siamo cresciuti negli ultimi anni e quindi anche il nostro cliente ha apprezzato la nostra professionalità. Il nostro supporto è una partnership con i nostri clienti, in particolare gli amministratori di condominio. Tutte le persone che hanno bisogno di avere un dato certificato, una lettura certificata, la nostra azienda appunto è specializzata in questo servizio. Tra l'altro da poco abbiamo messo anche a disposizione un portale dove vengono pubblicate quelle che sono tutte le letture per ogni singolo appartamento, per ogni singolo radiatore. Il cliente in finale può interagire, leggere il suo dato, verificare i consumi nel tempo, quindi anche paragonarli con gli anni precedenti, in più verificare se ci sono delle anomalie che vengono segnalate in tempo reale. Grazie a tutti! Grazie a tutti!